Incontri speciali per festeggiare un traguardo importante. A dieci anni dalla sua nascita, il portale dedicato alla salute e al benessere delle donne, Vediamoci Chiara, ha deciso di organizzare due grandi eventi rivolti alle sue elettrici, occasioni utili per dare vita a preziosi momenti di confronto grazie alla presenza di alcune e delle tante professioniste che collaborano costantemente con il portale fondato e coordinato dalla dottoressa Maria Luisa Barbarulo, appuntamento all'Hotel Enterprise di Milano il pomeriggio di sabato 26 ottobre e lo Shangri-La di Roma il 16 novembre per passare insieme qualche ora all'insegna della divulgazione e anche del divertimento. Il tema centrale sarà come sempre il talk show con i medici che per noi è sempre di vitale importanza perché confrontarsi con gli esperti vuol dire avere delle risposte certe, vuol dire essere sicuri che quello che verrà detto è un contenuto scientifico e non è qualcosa di rubato qua e là sulla rete quindi sicuramente per noi questo è l'aspetto importante però come sempre ancora una volta giocheremo con il nostro pubblico per cui abbiamo dei momenti leggeri, abbiamo dei momenti di gioco dei momenti in cui parleremo di questa fase importante di cambiamento che è quella che coinvolge noi donne in menopausa ma non parleremo solo di menopausa, parleremo anche di tiroide non solo separatamente ma anche quando menopausa e tiroide in qualche modo si fondono insieme perché la tiroide durante la menopausa può anche sregolarsi quindi uno di quei momenti della vita in cui bisogna stare particolarmente attenti Per i suoi primi dieci anni di attività il portale Vediamo Cicchiara ha deciso di realizzare una survey con l'obiettivo di indagare il tema della longevità così come della sua qualità e dei cambiamenti legati al passare del tempo circa 2.600 le persone coinvolte, la metà delle quali sotto i 60 anni con i risultati che sono stati illustrati nella corso della conferenza stampa convocata a Milano per rappresentare l'evento del 26 ottobre e quello del 16 novembre Gli aspetti che più mi hanno affascinato del pubblico che ha risposto alle nostre domande sono non soltanto i grandi timori e devo dire che mi ha sorpreso trovare la solitudine tra i timori in testa alle preoccupazioni del nostro pubblico mi aspettavo ovviamente quelle che potevano essere le patologie croniche o quelle che può essere la mancanza di autosufficienza però sicuramente la solitudine è una cosa sulla quale vale la pena di fare una riflessione tutti quanti noi sicuramente il covid ha cambiato il nostro modo di vivere per cui non escludo che questo senso noi lo percepiamo di più adesso rispetto al passato però è un aspetto sicuramente importante mi piace molto come il nostro pubblico in qualche modo dia degli antidoti che appunto sono soprattutto la socialità fare una vita attiva quindi impegnarsi in altre cose l'amore degli amici a quattro zampe che ormai fanno parte della nostra vita a pieno titolo ma poi anche e soprattutto un aspetto che mi è piaciuto molto si comincia a parlare di Signor House quindi l'idea di tornare un po' alla comune della nostra infanzia ma a tornarci in un modo diverso per condividere non solo la socialità ma anche ovviamente quelle che possono essere le spese di una vita comune e chiaramente è proprio per questo che all'interno di Vediamoci Chiara abbiamo aperto una nuova sezione dedicata proprio alla longevità e quindi quelli che possono essere i consigli da parte degli esperti per vivere al meglio il più a lungo possibile sta aumentando il desiderio di crescere per le donne nel desiderio di essere maggiormente consapevoli per affrontare i cambiamenti che il tempo ci richiede perché il tempo passa, non si può arrestare e quindi una donna si vede cambiare il mondo intorno a sé ma si vede anche cambiare se stessa cioè si vede cambiare fisicamente e mentalmente quindi questo è importante e per questo abbiamo parlato di consapevolezza perché se si prende atto di quello che sta succedendo e si vede come poterci stare dentro e come affrontare questi cambiamenti allora si vive meglio Dunque sono molto contenta che ci sia questa possibilità di intervenire a questi eventi perché il sito di Vediamoci Chiara è diventato un sito veramente di riferimento per molte persone da un punto di vista ginecologico essendo anche colei che risponde alle email di Vediamoci Chiara vedo tante realtà che necessitano di attenzione anche da parte dei colleghi e molte domande a cui noi riusciamo a fornire le risposte proprio tramite il sito e tramite tutte le dirette online che riusciamo a fare Credo che sia molto importante avere dei luoghi dove potersi informare adeguatamente e Vediamoci Chiara lo è di certo dopodiché rispetto a quello che è la mia collaborazione beh io mi occupo di sessuologia quindi raccolgo fondamentalmente le domande delle donne sulla sessualità, sulla relazione e sulla sessualità oggi per esempio abbiamo parlato delle difficoltà che più frequentemente si incontrano che è quella della diminuzione del desiderio che è quella della secchezza vaginale che poi comporta dolore durante il rapporto queste sono le tematiche più importanti che in questa fase di vita comunque si presentano però sempre con un occhio anche a quella che è appunto la relazione quindi con un occhio anche al partner e alla salute sessuale del partner perché appunto la sessualità spesso e volentieri si fa in due e quindi ci deve essere diciamo così una situazione di base buona da parte di entrambi e questo è appunto l'attenzione che noi diamo a questo aspetto considerando l'interesse crescente delle donne per gli argomenti legati alla salute al benessere femminile sale sempre più l'attesa e nella vista dei prossimi due appuntamenti dal vivo per le persone intenzionate a partecipare non resta che aspettare e nell'attesa pensare magari a qualche domanda originale da porre ai relatori invitati sia a Milano che a Roma